Amianto e rifiuti urbani, la statale 17 e Noce Mattei vengono scambiate ancora una volta per una pattumiera. Durante servizio di vigilanza ambientale nel territorio comunale di Sulmona, la pattuglia coordinata dal coordinatore nazionale dell'Associazione Guardiano della Natura Venanzio d'Alessandro ha rinvenuto degli abbandoni di rifiuti costituiti da lastre di copertura contenenti presumibilmente amianto, traverse di ferrovia, in località Noce Mattei, nelle vicinanze del canile comunale. Sulla statale 17, in un'area di tosta, sono stati rinvenuti i rifiuti RAE, cioè rifiuti e le apparecchiature elettriche e elettroniche tra Via Polo e Via Montesanto, i mobili in legno, numerosi sacchi di plastica di colore nero, secchi di vernice in plastica, rifiuti solidi urbani. E sarà quindi fatta la dovuta segnalazione al Comune. L'esercito di volontari continua ad operare, ma gli incivili non allentano la loro azione scellerata. Serve quindi un nuovo approccio culturale.